Gossip uomini e donne, Nicolò e Virginia in crisi? La reazione di Marta Ecco le ultime novità su Nicolò e Virginia dopo la scelta finale a uomini e donne. . C'è già aria di crisi tra Nicolò e Virginia, l'ultima coppia che abbiamo visto nascere a uomini e donne in queste settimane? E questa l'ultima clamorosa indiscrezione che riguarda i due giovani fidanzati a pochi giorni dalla fatidica scelta finale che ha attirato l'attenzione di oltre 3 milioni di spettatori su Canale 5. . I numerosi fan di Nicolò e Virginia in queste ore hanno notato degli atteggiamenti strani che hanno fatto insospettire un po' tutti. Nicolò e Virginia, le novità dopo uomini e donne. . Ecco allora che subito si è pensato ad una prima crisi di coppia tra i due protagonisti del dating show di Maria De Filippi, la quale però è stata smentita ufficialmente in queste ultime ore. . Possiamo svelarvi, infatti, che oggi pomeriggio Nicolò e Virginia saranno ospiti in studio per la prima volta a uomini e donne, sarà la prima ospitata post scelta, durante la quale i due faranno un primo bilancio di questa relazione. . Ebbene Virginia affermerà di essere un po' gelosa del suo nuovo fidanzato e confermerà che sebbene in questi primi giorni post scelta non si siano visti tantissimo, si sono sempre sentiti telefonicamente e attraverso i messaggi. . La dura reazione di Marta contro Nicolò. Insomma la love story prosegue a gonfie vele, Nicolò e Virginia sono visibilmente innamorati l'uno dell'altro e sperano al più presto di poter andare a convivere assieme. . Nel corso dell'ospitata a uomini e donne di oggi non sono mancate delle dichiarazioni nei confronti di Marta, l'altra corteggiatrice che è stata scartata al duello finale da Nicolò. . Nel corso del programma Nicolò ha ammesso di non averla scelta perché caratterialmente sono troppo diversi e non sarebbero durati tantissimi fuori dal programma. . Parole che non sono piaciute per niente a Marta, la quale sui social ha puntato il dito contro Nicolò, affermando che certe cose bisognava dirle in privato e non pubblicamente solo per ripulirsi la coscienza dopo la figuraccia che secondo Marta avrebbe fatto davanti all'Italia intera. . Insomma accuse forti da parte della corteggiatrice che adesso vuole solo voltare pagina e andare avanti. .